Ci sarà anche Alcamo nella corsa verso la Serie A2 della Stella Basket Palermo, principale società cestistica del capologo isolano. Nell'organico della squadra, che accusa al quarto posto la stagione regolare di Serie B, ci sono infatti tre Alcamesi, le mosche bianche della pallacanestro femminile cittadina, che negli anni 90 vantava addirittura nella formazione del massimo campionato, una in A2 e un'altra in Serie B. Si tratta dell'ala pivot Roberta Bonura, 22 anni, delle sorelle Martina e Tania Messana, la prima del 99 e la seconda del 2004, di un movimento che contava negli anni d'oro e più di cento tesserate, sono loro le superstite, assieme ad altre due ragazze Alcamesi fuori sedi per motivi di studio, Giorgio Arrimi in Serie B ad Ancona e Martina Mirrione in C a Bologna. Ritornando ai play-off siciliani, domani sera alle 20 la Stella Palermo renderà visita in gara 1 di semifinale al Ragusa, che ha chiuso la fase regolare al primo posto. I due quintetti, nel recente confronto diretto, hanno mostrato un sostanziale equilibrio. Mecci di ritorno, sabato alle ore 18, a Palermo, a Palamangano. Tre ragazze Alcamesi, quindi, che hanno una grande passione e che coltivano con grandi sacrifici i loro sogni sportivi. Roberta Bonura si è recentemente laureata a Roma in scienze infermeristiche. Martina Messana, che è il play titolare della squadra, studia medicina all'Ateneo Palermitano, mentre la sorella più piccola Tania, 18 anni nel prossimo mese di novembre, frequenta il quarto liceo scientifico. Le due Messana sono figlie d'arte. La mamma, Maria Grazia Raspante, ha giocato per tanti anni in a due, nella seconda formazione cittadina, vestendo anche i panni del capitano e dimostrando un'ottima vena realizzativa. Il papà, ex allenatore e attuale dirigente, ha commentato da telecronista centena di partite, mentre la nonna, nel lontano 1952, fu una delle componenti della prima squadra di basket della cittadina alcamese, quella del liceo classico, che partecipò ai campionati sud-tendeschi. Lo scettro è adesso passato alle due sorelle, che, assieme alla Bonura, cercheranno di ribaltare il fattore campo e di riportare un pezzo di Alcamo, seppur con la maglia della Stella Palermo, nella pallacanestro che conta.